Ciao a tutti ragazzi, sono io Adoscocia99, benvenuti in questo nuovo video. Questo sarà un video presentazione, quindi il primo video di questo canale. Vi preannuncio che io avevo un altro canale su YouTube, di cui però ho perso praticamente l'account perché ho perso una password, che è una password molto complicata, e l'ho persa. Quindi, se non ci posso più tornare, ho provato a recuperare la password, ma si bloccava il computer e l'ho detto, lasciamo perdere. Ora, creo un altro canale e basta. Il nuovo canale sarebbe questo, quindi io Adoscocia99. In questo canale di cosa voglio parlare? In questo canale voglio trattare innanzitutto di manga, soprattutto di manga, anzi, praticamente del tutto di manga, e comunque farò anche qualche altro video che però non sarà certo di libri, eccetera. Voglio trattare praticamente solo di manga in questo canale. Ho anche qualche videogioco, però credo che non tratterò di videogioco, ma appunto solo di manga. Nel prossimo video, già vi preannuncio, farò il videoacquisti, il videoacquisti però dell'altro ieri, quindi del giorno 19, 4-2013, e nulla. Appunto, io ho anche altre amiche che, diciamo, hanno canali su YouTube, ovviamente non mi farò il nome. E nulla. Questo è il video presentazione, potete chiamarmi o col nome di Adoscocia99, appunto il nome del canale, oppure semplicemente col mio nome, che è Carlotta. Nulla, spero che vi iscriviate, se volete iscrivetevi, spero di sì. Comunque, diciamo, già vi dico che a me non mi piace molto chi si iscrive solo per essere disambiato. Io, arrivata una certa quota di iscritti, tipo 10 o 20, speriamo, o anche di più, ovviamente, speriamo appunto, farò, andrò a vedere, a parte che farò i video ringraziamenti, eccetera, ma andrò a vedere anche i vostri canali, se mi piacciono vi iscriverò. Però, io l'ho già perscontato questo, quindi non scrivete, mi iscritto, ricambi, perché se no non ricambierò mai, perché a me queste cose di iscrizione, cioè, se io mi iscrivo al tuo canale, tu devi ricambiare, non mi piacciono molto, praticamente. Quindi, detto tutto, ora, noi stiamo facendo i lavori in casa, li abbiamo appena iniziati, si proterranno per due settimane ancora, quindi, nulla, questa è la video presentazione, e spero che questo canale possa interessarvi, e ci vediamo al prossimo video, ragazzi. Un saluto da DiscoChan99. Grazie a tutti.